E' con una lettera aperta rivolta a tutto il personale del punto nascita dell'ospedale del Valdarno ma anche al direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Antonio Durso che il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, torna a chiedere certezze e investimenti per il futuro del reparto. Mi trovo a scrivere nuovamente, spiega il primo cittadino dopo il rischio chiusura del punto nascita nel periodo estivo per la carenza cronica di personale da 6 o 7 anni e mai sostituito. La situazione non dà alcuna garanzia per il futuro, con mancanza chiara da anni di investimenti sulla strumentazione. La vasca per il parto è stata sostituita solo dopo molti mesi e sul personale, aggravata anche dalla mancanza di un primario in pianta stabile. Chiassai si rivolge dunque ad Urso e aggiunge che chi ha la responsabilità della salute pubblica, anche se a diversi livelli, ha il dovere di tutelare ed offrire le condizioni migliori possibili necessarie a coloro che utilizzano il servizio sanitario nazionale e a coloro che ci lavorano. Per mia parte assumerò tutte le azioni istituzionali necessarie a tutelare un diritto che non può essere messo in discussione. Come sindaco aggiunge, richiedo chiarezza in primis per l'uscita urgente del concorso per primario di ginecologia ed ostetricia. Infine, chiassai si rivolge a tutto il personale del reparto. Voi siete la risorsa più importante che abbiamo, siete indispensabili e se voi rinunciate inconsapevolmente aiuterete questo progetto irrispettoso di depotenziare e indebolire una comunità intera.